Gabriele Bertoldi, capogruppo del Partito Democratico Rivano e presidente della Commissione Urbanistica, dice la sua sul tema dell'area ex Cattoi. Sulla questione non si muoverà assolutamente nulla, almeno fino al 24 marzo, dice Bertoldi, data di scadenza del piano fascialago. Su questo non ci piove. Il nostro riferimento è la legge urbanistica e la legge parla chiaro. L'amministrazione rivana ha inviato un messaggio chiaro all'accordata Trentino-Altoatesina che spera di bruciare le tappe per decollare con il suo progetto. La legge urbanistica provinciale, legge 15 del 2015, articolo numero 54, dice testualmente che i piani attuativi hanno efficacia decennale a decorrere dalla data di efficacia della delibera che li approva e che la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dai piani attuativi e l'assolvimento da parte del soggetto privato degli obblighi a suo carico derivanti dalla Convenzione nel loro termine di efficacia consente la realizzazione degli interventi edilizi previsti anche dopo la scadenza del termine indicato. Decorsi i termini previsti dal comma 1, senza che siano state realizzate le opere di urbanizzazione, le aree incluse nei piani attuativi sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato. Entro 18 mesi dalla scadenza del termine, il Comune deve definire la nuova disciplina delle aree interessate. In attesa della ripianificazione, il Comune può autorizzare interventi in deroga a limite di densità fondiaria. La ridefinizione delle aree è atto obbligatorio.